Per quanto riguarda la domanda di cittadinanza è molto importante sottolineare questo concetto. Per quanto riguarda la domanda di cittadinanza sia per matrimonio che per residenza ci sono due documenti molto importanti che spesso abbiamo difficoltà a reperire e questi due documenti sono il certificato penale e l'atto di nascita. La domanda che spesso ci viene sottoposta e il dubbio che avete è se questi tipi di certificati scadono o no. Questi tipi di certificati scadono solo ed esclusivamente se parliamo del certificato penale. Il certificato penale ha validità sei mesi dal momento in cui viene tradotto e legalizzato e successivamente non avrà più validità e quindi non potrà essere inserito sul portale per la richiesta della cittadinanza. L'atto di nascita invece è una documentazione dove vengono specificati tutti i dati anagrafici del soggetto, quindi dove è nato, quando è nato, il nome, il cognome, eventualmente se ha due nomi o se ha due cognomi. Insomma viene dichiarato esattamente le generalità del soggetto. Il fatto che tanti abbiano la convinzione che anche l'atto di nascita abbia scadenza sei mesi porta tantissime persone a sprecare molti soldi in quanto nella merrata convinzione che l'atto di nascita scade tendono a rifarlo più volte. Ebbene sì, quindi questo video per dirvi il certificato penale ha validità sei mesi, l'atto di nascita no, quindi non state a buttare via i vostri soldi. Se avete bisogno di una consulenza scriveteci, magari un messaggio whatsapp al 320 55 99 074, eventualmente se avete dubbi a riguardo facciamo una consulenza insieme e potremmo dipanare tutti i vostri dubbi. A presto!